Oggi proverò a vincere una partita in ogni server del mondo partendo dai 40 di ping europei per poi infine arrivare ai server australiani dove raggiungeremo livelli di lag incredibili Se riuscirò ad ottenere una vittoria per ogni continente del mondo dimostrerò a tutti di essere il top player Quindi saluto chiuso il codice, callari e partiamo Oh mio Dio quanta gente è tirata su quella cassa Ovviamente prima partita, server europei 30 di pinga che se già ve lo dico potrebbe alzarsi facilmente a 50, 60, 80 Non ho un'arma, no, no, per fuori, 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 no, non c'è un'arma Tutti sono andati qua, ok non è il miglior start, non è il miglior start del nostro gioco del mondo Ma troveremo un modo per trovare un'arma ragazzi non è possibile che sono andati tutti quanti qua E invece no, ci sta pure uno sul molino, sul molino, sta uno pure in casa qua e io sono finito No, un'arma, ok, perfetto, adesso mi sento molto per sicuro Ok, sono così disperato per un po' di scudo e qualcosa di decente che sono dovuti salire sul treno ragazzi, sul treno Non ci salivo dall'anno scorso su sto coso Però adesso almeno potrò stare al sicuro perché in Europa il ping sarà buono ma i giocatori sono molto try harder Quindi ci serve un po' di loot Muori, ok, la nostra prima kill ha detruto un bot, come l'ho detto ragazzi Ho detto che l'ultima di try harder qua invece, la nostra prima kill è un bot Ma siamo già in 25 quindi c'è un sacco di gente aggressiva che dobbiamo pushare ed eliminare il prima possibile Ad esempio hanno preso il medaglione a cupo cancello che voglio andare a prendere perché lo stesso che ha preso cupo cancello E' quello che ha preso anche il medaglione di Aden Nel frattempo l'ho sbattuto sei volte contro la pietra, bellissimo Ed eccolo qua, muori Dove sei? Morto, perfetto C'è sta un altro qua? No Uh, il cecco, 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 il cecco Sono scappato perché i ragazzi mi avevano sfondato il primo colpo E non ho shield, non ho shield, non ho shield, non ho shield E lui si vedeva che era un try harder, si vedeva Ok, rotto uno, l'ho rotto questo qua E mamma mia, sembra che giochiamo competitiva Quanto tryhardano Sì, facemmi lo scopo di Oh, il cecchino ti squacciavo il melone veramente Te l'ho squacciato lo stesso però Dove sta il suo cecchino? Ne ho altamente bisogno Mamma mia, lo sapevo che ne avevo bisogno Che cosa ho menato Uh 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 Oh, e c'è andata pure di lusso ragazzi C'è andata pure di lusso Perché il loot esce dalla tempesta Quindi possiamo fare così Mitragliette, attack Che c'è il potere dell'acqua, giusto? No, dell'aria, non ci interessa Ottimo per fare mobility ma ragazzi Ho il cecchino che non voglio togliere Non voglio togliere No, 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 aiuto, aiuto, aiuto Ce l'ho assolutamente asfaltato questo qua Oh no, no, il lag, no, il lag, no, il lag, no Il lag, no, il lag, no, il lag, no No, 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 no Mangia la banana, mangia la banana, mangia la banana Mangia la banana, mangia la banana, mangia la banana Mi serve dello shield Sono in top 9, non posso perdere questo match Ma non c'è un pochino di shield Un po' di scudo, non ci sta Cosa vedo nei miei occhi? Bellissimo Oh, questo era quello di cui avevo bisogno Ok, devo assolutamente eliminare questo tryout ragazzi Devo assolutamente eliminare questo tryout Eccolo qua, che ha appena scondato una persona Perché se prende tutti quanti i medaglioni Diventerà troppo forte Ok No E' bianco, e' bianco, e' bianco Bellissimo No, 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 no Io odio i medaglioni di questa stagione Si prendono malissimo Me li vuoi prendere? No, grazie Ottimo, ottimo E ce n'è ancora un altro di medaglione Meno male che era un bot Meno male che era un bot Ok, mi ha molto aiutato quella mitraglietta ragazzi Mi ha davvero molto aiutato però Questo assalto è devastante, mi piace troppo Quindi continuiamo ad usarlo 6 kill Top 4 Per adesso un'ottima partita Tutti i medaglioni Tutti i medaglioni Aiuto Non posso perdere La mia medaglietta Che fortuna Oh mio dio M'ha dato veramente il medaglietta Ok Ci camperan No Come ho fatto a nittarlo? No, non la rischierò mai Tu non hai capito Io non la rischierò mai Oh mio dio Bellissimo Ok, ok Questo era quello che cercavo Questo era quello che cercavo Let's go Uh, bella win Atterriamo di nuovo al cupo cancello Questa volta in Nord America Dove abbiamo 140 di ping Però stiamo combattendo Contro persone Che stanno giocando Alle 4.50 del mattino Quindi speriamo Di trovare qualche addormentato Più che altro Speriamo di trovare qualche arma No, fortuna Non sarebbe fico Un'arma Una weapon No Vorrei sparare No, un pompa martello Ok Ok, almeno un'arma Cos'altro qua L'assalto Perfetto Eh, vedi Si vede che sono le 4.50 Torna a letto Torna a letto Torna a letto Oh E come corrono In America corrono Sono delle anguille Oh, morto Morto Aiuto No, 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 no Mi servirebbe davvero una mano Ah, non la Vai da me Ho cleanato questo Dammi sto shieldone C'è la Tomikan O è un'arma Che assomiglia alla Tomikan C'è la Tomikan C'è la Tomikan Che figata Ma quanto Sono forte Ma quanto sono forte Si, non frega Ho confermi pure tu? No Mi resti No No Perché hai detto Non sono forte Eh, a me è proprio così Ma è vero che tu non hai visto Questa giocata assurda Ma no Ma infatti Non ci teniamo neanche Mi resti Mi avrei detto Questo anch'io Voi lo dico Non ti preoccupare Si, ho 6 minuti di video Ok, mori, 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 let's go, let's go, andiamo a conquistare l'America, anche se ci saranno tre server americani, ragazzi, maledetti, hanno tre server loro, sempre, sempre in vantaggio E poi c'è l'Africa che era una sera Poverini, poverini, mi dispiace No, ma no Ma sono più addormentati di me E sono le 5 di notte No, come hai fatto? Abbiamo comprovato che non sono più addormentati di te Sì, sì, sì Mi rubo la corona Tanto lo ammazzo e gliela riprendo la corona, non ti preoccupare Sicuro Visto? Boom Ok, c'era un altro qua, c'era un altro qua, c'era un altro qua, c'era un altro qua, c'era un altro qua Che, oddio, come ho lisciato Muori, 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 grazie Dov'è l'ultimo, dov'è l'ultimo? Porta, godo Oh, avevo un altro cecchino, bellissimo Che co- Vabbè, non faccio domande Sfondato, 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 sfondato Sfondato, sfondato, sfondato Mi hanno sfondato Ok, abbiamo due sfigatoni qua Che mamma come camperano Ah Cosa? No Non mi sono ritorno Lo so, non è stato un urlo di dolore, molto, molto di dolore Bello Ok Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo Però, uno scildore, ci sta, ci sta, ci sta Ok, rest fatto, mancano anche 15 persone Quindi se eliminiamo tutte le persone sulla mappa Possiamo Incredibile Fare la 20 bombe dei server americani Che ci sono amici qua, ci sono amici qua Il benzinello, il benzinello, il benzinello Guarda che cicchina, guarda che cicchina qua da 3 2 1 1 Deve sono scoparsi Ecco Oh, l'ho preso Muori Ovviamente Il server americano ha la licora dell'hamburger No, non scopo No, scopo Sto aggiungendo me Si, arrivo Quindi tra i jardini delle 4 di notte Hanno eliminato il view rush Ma guarda da qua ragazzi come gli spaccia il melone Ma pichino, che notte No No, sono una pippa C'è Pippa Oh, mi ha squacciato il melone All'acqua o all'alpano? All'alpano No, acqua perché sono americani Let's go Ok ragazzi No, sono ancora in palio per la 20 bombe Perché mancano 9 persone con 12 kill Potrei effettivamente troppare una 20 bombolone? Sicuro Beh ragazzi, come al solito noi abbiamo nelle cupie l'hater Numero 1 Che non crede in noi Ma che in realtà si carica Quanto fai sboccare quel cecchino E sa come hai fatto a lisciare Mamma mia Ma che cacchio ne so Dio mio, non riesco a prenderli Sono il potere dell'America questi qua Cioè ti giuro, puoi veramente sboccare Ritirati Come youtuber Fallito Salam aleikum Aleikum salam Siamo nei server del Medio Oriente Dove il pink è leggermente più alto Di quelli degli americani dell'est Nonostante siano tipo più vicini Però Eccoci qua ragazzi Dove sta questo qua? Mi sta facendo impazzire Da dove sta spaccando? Dove sta spaccatando? Anche perché l'ultimo altro Eccolo qua Muori Adesso non sono dei grandi nascondiglionosi questi arabi ragazzi Dove si nascondono? Ok, una bomba posso farlo saltare in aria Muori Cosa? Ah E va bene Ma grazie tutto quanto le mani di Yulash Riuscirà a eliminare queste persone A prendere la scheda? Sappiamo tutti quanti la risposta Decisamente Billy Eilish mi ha ucciso Ma perché non hai messo il muro là davanti? Trovo il follow su Insta Billy Eilish Billy Eilish del cozzo Ci facciamo ovviamente un'altra ragazzi Perché dobbiamo vincere in ogni server E vinceremo in ogni server Sì ma sei una due contro singolo Sono una due contro singolo? Non c'è problema Non c'è problema Lo faccio ogni volta Certo Cosa ho appena scoperto? Vi ho visto ragazzi Questa porta si è aperta Me ne ando una spallata da un lato È stata la cosa più Wow Che ho visto Cecchino d'oro Off spawn Ragazzi Questa è perché non c'è più Yulash In partita ragazzi Ah sì Porta fortuna Che cecchinata Mamma mia Quando sono forte Che cecchinata Mamma mia ragazzi Mi viene da piangere Per quando sono bravo Col cecchino Secondo me E per favore non andate a rivedere Dieci secondi fa nel video Quando ho fatto quello schifo Contro nei server americani Qua non conta Sfondato Comunque non ho shield Cioè No scusate C'è loro shield ragazzi Cosa dico Con le allucinazioni 121 Sono fortissimo C'è Abdulla Ok Anche sto commesso Con un sacco di Abdulla Se ne è scappato Questa Abdulla Oh 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 Aiuto No affitto pure Morissi del cecco E va a cagare Ma cecchinato Che palle Io Otterrò Questa vittoria Nei server arabi Uh Sono letteralmente ragazzi Il re dello shield In questo momento Posso disertare L'intera arabia saudita Con tutti quanti I bomboloni Che guardate qua Tre bomboloni Uno shield Due shieldini Ho acqua per tutti Aiuto Muori Muori Oh Grazie 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 Gli ho preso il muro Come ho fatto a prendergli il muro C'ho diecimila di ping Muori Grazie Ok Aiuto quanta gente Ci sa qua Mi sa argomento un po' Godo Questo devo argomentare Che sono fortissimo Ok Eliminato Tutto il gran ghiacciare Devo dire ragazzi Non so come C'è centra di ping Sono tipo le Tre del pomeriggio Quindi non è tardissimo Non è normale Quindi non sono addormentati Però Sono con i player da switch Dieci miliardi di ping E comunque trovo gente forte Che i server arabi Siano diventati i server più forti Veduto forti Lo scopriamo alla fine di questo video ragazzi Per adesso sono molto molto migliore Dei server americani Forse ero di quelli europei comunque Con una pipa Oh Forto Mi ha fatto malissimo questo qua Sfondato Sfondato Dove sta il tuo amico Dove sta il tuo amico Vorrei tanto fare lo shakedown A questa cosa per scoprire Dove sta il tuo amico Però Sfondato ragazzi Non esiste più dal capitolo 2 Ma esiste questa feature Nella mappa Brawlbox PvP Che ho giocato qualche giorno fa Te la consiglio E qua Veramente è veramente una mappa interessante Eeeh Bum 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 Ok Farò schifo Davantano col cecchino Ma da vicino Sono un demone Sono Un nemico Della Società Col cecchino Con un'infermabile Forza Della natura Non sei d'accordo? Manco mi rispondono le persone Per quanto è forte il mio cecchino Sta ancora così A bocca aperta A vedere quanto è È stato bella questa Tribula cecchinata È vero? No ho fatto schifo Ok si sta avvicinando Verso una persona Che ha un medaglione Molto interessante ragazzi Ha più di un medaglione Quindi è veramente Veramente aggressivo Non dico che se eliminiamo nulla La partita è Fatta Però Ci troviamo sicuramente In un In una posizione migliore Addio Cristo Direi che dopo essermi quasi Squacciato la mano Per colpa di quegli stupidi Server arabi Andiamo direttamente Nei server americani Centrali Dove siamo quasi A 200 di ping Ragazzi Wow Morto Ottimo Boom Boom Con 10 minuti di ritardo Ma questo colpo di pop È stato veramente aggressivo Bah Kill fregata Ok c'è un altro Questa qua Addirittura sta a buildare Ok Però possiamo fare così Ottimo È finito Eccolo qua Muori Ma va quasi ammazzato Non so come Non so come ha fatto Ok Se non sbaglio Qua vicino dovrebbe essere Eccolo qua Il camioncione E dai muori Morto Perfetto Prendiamo il camioncione E andiamo a conquistare Andiamo a conquistare Questi server Americani Ragazzi Che devo dire Il ping diventa Sempre più alto Ma Sembrano più semplici Di quelli arabi Sembrano più semplici Di quelli arabi Quelli arabi Sono veramente Sono stai veramente Incredibili Ma hanno fatto Squacciare la mano Come ho detto Quindi basta E muori L'ha mangiata La banana Ma perché La banana degli dei È così difficile Da mangiare Porco Due Oh morto Ok Questo era il primo Avversario americano Che aveva le mani Ragazzi Non ne aveva tantissime Di mani Perché poteva Ammazzarmi Molto più facilmente Ma ha deciso Di iniziare a editare Quindi magari Quindi magari aveva le mani Ma era stupido Però Ok Questo qua Non corre nemmeno E infatti Bello Andiamo 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 a sfondare Altri avversari Non ci credo Ah muori Sta per uscire Un bell'investimento All'americana Ragazzi Però La mia macchina È senza due ruote Letteralmente Guardate qua No una Una ok Ma andiamo a cercare La prossima vittima Che ha appena eliminato Il dio Ares Ok Quindi posso Effettivamente andare a fare Un bel po' di casino Qua Se sta fightando Ares Vuol dire che sta impegnato Ragazzi Perfetto Ah Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Oh Oh Ah God Lo sapevo Lo sapevo Che giocare con 3 medici Sarebbe stata la scelta giusta Ragazzi Questo è morto di tempesta Non è possibile Che tena pure lui 3 medici Adesso Tutti e due di me negli oni Del monte olimpio Ragazzi Non posso assolutamente Buttare questa partita Oh Bello Morto Uno Non ci credo Che non l'ho preso Casa leggendaria Casa leggendaria Proprio quello che volevo Dammi Questo Ottimo Ok top 4 Top 4 ragazzi Abbiamo un altro medaglione qua La prima cosa Prendiamo sto pedigree Perché ci ha portato bene L'ultima volta Con i medaglioni Questi scindoni E anche Quell'infame What the fuck Avete visto che botta di raga Che mi ha menato Ok c'è un bottazzo qua Bello Perfetto Morto E siamo in 3 Io Hang E un altro E questi americani Gli piace proprio Buttare il loot A casa Guardate Quanta roba Non lootata Sta qua Eccoti qui Stupido Hang Mi chiedo più alto Dove sta il terzo Eccolo Mi sono risposto Nooo Connessione dei buffi Ottimo 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 Che è successo Dov'è Dov'è finito Questa casa ha il potere Venti di scomparire Eccolo qua Addio mio Let's go E concludiamo la nostra conquista del Nord America con Nord America Ovest dove arriviamo per la prima volta a 200 di ping ragazzi 200 100 Se 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 Anzi siamo a 194 Però comunque arriverà ogni tanto a 200 quando facciamo qualche buildatina di quelle interessante Nel frattempo non ho capito come ho detto quel 200 Ho tirato fuori più aria del Monte Everest Non so se il Monte Everest tiri fuori l'aria ma ste palle Lo dico lo stesso Nel frattempo qui abbiamo una serie e basta Cosa sta succedendo Oh il volto Il volto è vero Questo è aperto Niente Porco due Ma mi ricordavo che ci dovrebbe stare almeno una cassa Niente Ma è proprio inutile Poi potete dire ragazzi Sto anche cambiando ogni partita nel luogo di atterraggio Così che almeno Lo rendiamo un vero il giro del mondo Il giro del mondo nel mondo E il giro dell'isola su Fortnite Per il resto mi sa che non è sceso nessuno Non posso fare schifo questo post senza volte C'entrano tutti quanti Io ho qua ho qua Quindi non Non è che poteva aspettarmi di molto Però almeno una persona Ma guarda il lato positivo Adesso possiamo lutare tutto in tanta pace E cosa è successo al mio mirino Ok Avete visto come era il mio mirino Molto molto strano Morto Mi ha squacciato letteralmente Però morto No c'è una persona Aiuto Poseidone sai cosa? Vieni con me Anzi no Prima mi dammi queste Ok E poi vieni con me Ottimo Dove stanno le mie Chuck Splash? Ehi Poseidone infame Non mi hanno dato le Chuck Splash Ma che maiale Chi l'ho comprata? Vabbè ragazzi Ok Poseidone è uno Scammer Non è il re del mare Il re dei ladroni Dei Stavo per dire Un popolo italiano ragazzi Ma non Non voglio essere razzista Allora Imparato dal bravo Poseidone Che ci ha fregato Le Chuck Splash Andiamo a fregarci Questo airdrop Volante qua Fregando Questa vera Lamborghini Oh Finalmente gente Che verrà investita Oh Ok 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 Non chiedemi Come è successo Che non l'ho investito Non riesco veramente a capirlo Gli sono volato sopra Letteralmente E va Mamma mia Squacciatao Questo qua Non ho capito Dov'è Mori 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 Come è successo Che sono Morto Ok Non ho capito Come è possibile Che sono prima caduto E poi si è messo il tetto Bello Però ce l'abbiamo fatta Abbiamo pure tutta la corona Che ci spettava Visto che la scorsa partita L'avremmo vinta Ma non fatemi ricordare Il motivo per cui l'ho persa Uh Le cose di rifornimento Ok sono meglio adesso Danno pure gli shield Molto interessante Ragazzi Ok I Jack Splash Servivano Sono i Jack Splash Che ci ha fregato Poseidone la scorsa volta Ah no Sono stati brasiliani A fregarsele Ok ragazzi Adesso tutto torna Posso fare battute sui brasiliani? Spero di sì Perché non credo Che ci siano brasiliani A guardare questo video Nel caso ci siano Mi scuso Mi scuso Mi scuso ragazzi Ok ok Gli ho fatto un bel danno Ho dovuto prendere Una botta enorme Addosso Per farglielo Però Mi è valsa la pena Dai muori muori Oh morto No Morto Morto Ma non so perché Sto pushando A questo ping altissimo Ragazzi Non riuscivo mai A prendere Nemmeno un muro Però Io ci provo lo stesso Ok 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 Ho rischiato tantissimo Di morireci Quindi non lo farò Mai più Non pusherò Mai più Una persona In questi server No Ma peccato Sei Vabbè Porco due Ok Ho trovato un mega Trajarder Brasileo Come è successo Quindi ci riproviamo Ci riproviamo Non me ne esco Da questo server Senza la mia vittoria Sono insano Sono letteralmente Un folle Fuori Oh Ero un bot Ok Meno ma Saranno finiti Saranno finiti ragazzi Lo spero Mamma mia Sono pieno di colpi Pompà Già Con due Per con due Ares Vieni a me Pompa Leggendario Non possiamo perdere Questo match Ragazzi Non possiamo assolutamente Perdere questo match Dai Dai Un pompa Leggendario Già con Cinque colpi Dai Se perdiamo questa Sono veramente I più scarsi del Brasile Oddio ma questo qua Già l'abbiamo ammazzato Nella partita di prima Ragazzi Questo l'abbiamo già ammazzato Nella partita di prima È vero che Letteralmente Saranno tre persone A giocare adesso In Brasile Visto che è notte fonda Però bellissimo Un bel salto Leggendario E godo Ci sta Ci sta un bot Muerto 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 Ok ok Stiamo incontrando gente Meno sveglia Quindi vuol dire Che o abbiamo già eliminato Il traiardino della lobby Oppure che si sta Avvicinando il momento Di eliminare il più forte Che Non lo so Non ho preso Nei medaglioni di lupo Di cupo Sì di cupo Perché lo chiamo sempre Lupo cancello Si può cancello Nei medaglioni di Montolimpo Del campo di battaglia Quindi forse Non c'è nessun traiardino Addirittura in questa partita Potrebbe darsi Non lo so ragazzi Sicuramente se mi ammazza Questo qua Mi sparavo Dai Stava presente Piccolando l'aria Stava laggando più di me Ok Ne vedo uno all'interno Sta scappando Dopo un solo colpo Quindi nemmeno lui È il traiardino Ok E invece che Dopo un colpo È scappato Dopo dieci Ha iniziato a fedare Maionese Quarantotto Pare se mentre non era lui Il traiardino Oh ma riescivo a investire Una persona prima o poi Ok Forse qualcosa Riesco a farla Muori Muori Oh morto Ah ma ha tirato Una roccia in testa Un'altra E un'altra E me ne vado Opposito Non ci credo Che non è morto Morto Nobody knows me Ok Quasi è successo Letteralmente Non ho capito Cosa è successo Ma è successo qualcosa Secondo me Mi ha sparato via Ecco Si vedete il potere Di pietra là Mi ha sparato via Con quello Incredibile Ah Ah Ma è uscito Ah Ah Come ho detto ragazzi Ci stavano ancora I traiardini della lobby Li abbiamo incontrati Tutti e due Insieme Uno l'abbiamo ammazzato Molto a fortuna Perché è entrato nella box Senza un motivo proprio L'altro Doveva ancora eliminarlo Boom Morto Che fratto sta affagando Con un trombotto E il bot sta vincendo Bello La mira dei puffi Veramente Ok Perfetto Morto Si è fermato Cioè ha dovuto aiutarmi Questo qua Frate sai che c'è Mi fermo Così magari riesce a prendermi C'è uno qua E è morto pure questo Morto E ce ne sta un altro qua Morto Era one Sotto 27 e basta 3 Top 3 Attenzione ragazzi Attenzione Stiamo per conquistare il Brasile Questo qua non è scarso Decisamente non lo è Morto 1v1 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 Possiamo troppare 16 Bombola Ho detto Conquistato Anche al Brasile Aiuto 370 di ping 370 di ping 370 di ping Server asiatici Vedete quanto sono simpatico Ho messo pure il gioco in coreano Per fare Più il vibes Più il vibes Quindi scrivete Sì coreano Se volete sapere Che il gioco era in coreano No coreano Se non ve ne fregamo una mazza Del fatto che il gioco era in coreano E quindi date ragione a Bulash Per favore Ovvio che non ha ragione Non ha ragione a lei Non lo fate Non lo fate Per nessun motivo Ragazzi se date ragione a me E grazie Siamo nei server asiatici Vabbè Ma l'Asia Deve sto Muori No 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 Muori Oh Bel bottazzo Ho detto Morto 1 Ah buono E ho capito Non Donna mia Vuole morire Questo qua No Mamma mia È morto Odice di vita Bellissimo Antico No 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 fra ti giuro Sto laggando pure io Ma fra Mi sto teletrasportando Lo so E questo è il punto del video L'hai capito? Vincere laggando Ce l'hai fatta? Siamo arrivati? No Ok le prime 3 kill Non le avevo registrate Sono state comunque 3 kill fantastiche Contro Buga Mongral E Peterbot Ragazzi Tutti quanti contro Propriere Contro Benji Fish Scusate ragazzi Quando si ammazzano Propriere Ogni giorno È un po' difficile Come andiamo a prenderci Questa partita E per tempo Aggiornamento ping Ragazzi 500 Non siamo nemmeno All'ultimo server Wow E ho meno di te io Ok Va bene Ok Ok Vinco lo stesso Ragazzi Stai il fumo sotto i piedi Continua a tremare lo schermo Cioè vedete Sta tremando Non sto Io sono fermo Sta tremando Mi sta prendendo il mal di stomaco Ah muori Boh Ok Mi hai stilato la mano la mente Godo 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 Mori 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 Morto E me l'hai stilato la mano la mente Sì Allora sì Ah ma ti manca la vita Ah mi dispiace davvero tanto Mi sto facendo i barri Senta di te A questo punto non mi faccio le bacche con te Ok Ah ma chi te l'ha chiesto Eh c'è gente c'è gente c'è gente E muori Semicecchini Porco tuo padre Grande Sì ma questo è tipo immortale Sì Oh morto Caffè e latte Caffè e latte No 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 dai no Dai 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 non mi pusciare Ah sono gli ultimi Sì siamo ufficialmente Io contro questi qua Ho un miliardo di ping No le dalle che sono loro contro nessuno Sì contro nessuno Perché io sono letteralmente inutile in questo momento Sì vabbè questo qua Pure ha dovuto mettere il muro E ragazzi Concludiamo il nostro viaggio in Oceania Con 350 di ping Signori 350 di ping No Mori 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 Morto Perfetto Puoi venire qua 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 E venire qua E venire Grazie Gli ho squacciato il melone Stavo Si vedeva solamente la pelata letteralmente Bellissimo E credete come ragazzi Questi server australiani A noi non ci fanno paura Abbiamo pure conquistato Il cupo cancello Il cupo cancello No 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 Mi sto zitto Mi sto zitto Mi ha quasi ammazzato sto pingone Porco due Eh sì va Prendi tu 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 Sì Ok A posto Ok Che schifo di loot Eh non mi conosco Sia vivo Ok Morto Ah eccolo qua Ok ragazzi In Australia A quanto parla Le persone prendono i medaglioli Le limiti Che poi decidono di Crasciare completamente Il problema è che gli è entrato Un ragno gigante in casa Ragazzi Montualmente Che le ha mangiato Di fila la connessione Quella era l'Australia Non l'Asia Siamo in Australia Hai detto Asia Ho detto Asia Vi mandiamo la clip di prima ragazzi Non so cosa ho detto Però nel dubbio Iscriviti Ok ragazzi In Australia A quanto parla E ci risiamo Australia Io non mi arrendo Non me ne vado Non me ne vado Non me ne vado Senza una win Non me ne vado Senza una win È vero Viulash Non ci andiamo Senza una win No Io me ne andrei subito Però me ne ho sentito No 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 Sei veramente morto Io non la caduta Ma mi sono buttato in acqua Ma che c***o è successo Io giuro che dopo questo Non ti lasso Io ti giuro che dopo questo No 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 Non ti giuro C'è la registrazione Te la mando Te la mando Sono caduto in acqua Sono caduto in acqua C'è solo acqua Non è possibile Per favore Mi riesco Dai Cosa si sformi Stai zitto Se fai sboccare a sto gioco Non è 21,37 Morto questo 21,37 Di nuovo Morti Let's go Sì C'è un altro C'è un altro C'è un altro C'è un altro Buh Mamma mia Quanto ti giuro Sì Mi l'hai Sì Io tra l'altro Non c'è un altro No Allora Pure è diciottato Sto stronti Eh vabbè Dio Cri Muori Mamma mia Ragazzi Che lag Che lag C'è un altro Stupiti astrolioni Sono bocca Meno male Meno male Meno male Muori Aiuto Muori Esplodi Muori Muori Dio mio Morto Ragazzi Non capisco Una mazza Che cosa stai dicendo Tu Muori 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 Eccolo piccione Belli piccione Belli piccione Muori 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 Bello Morto Mamma mia Ragazzi Si vedono Primi i proiettili Che escono Poi i proiettili Che colpiscono Poi il danno Che arriva E poi si elimina Però comunque si cuore Muori 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 Bellissimo Bellissimo Come siete letteralmente Il proiettile Non so perché Non lo sapevo Che sono da fare Il palletto Sulla motocicletta E perché non lo sapevo Io Ok Va bene ragazzi Wow Che cosa è successo Non neanche io Però è successo Oddio morto Se seguo questa banana Potrebbe essere che mi porterà Dal suo amico Vero Vero Dove sta andando questa banana Dovrei seguire questa banana Secondo voi Secondo me si Ah ok Perché si Si portava Dove va questa banana Dove va Io la seguo la banana Oh che da un'altra banana Ah dai oh Ok Bellissimo Morto Sono troppo da me Arrivo Ok Dove sei Perché sei lì Prova ad arrivare Nonostante tu stia In papueno Nuo a guiena Bella nazione Papa muovo a guiena Eh lo so Lo so Lo so Con carlare si insegna anche La giocafica ragazzi Te la stillo Era fermo Me lo chiedi la prossima volta Lasciami la kill per favore Ma rara Dovresti capirlo da solo Ok muori 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 Ottimo 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 Let's go Hai eliminato l'altro Grandissima Godo Mi sembra che questa Australia La andiamo a conquistare ragazzi Ok ragazzi Siamo in top 6 Siamo noi due Contro Altri due Contro Altri due Ok questo qua è assurdo Questo qua è assurdo Ragazzi è assurdo 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 No 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 Non posso bildare il problema Non posso bildare il problema Non posso bildare No ragazzi No ragazzi No Iscriviti ciao